Rubinetti a secco al carcere di Vibo Valencia, dopo che la Sorica l'ha ridotto la portata ad acqua. Il problema si è presentato proprio nel giorno in cui il SAP aveva indetto una conferenza stampa per denunciare la grave carenza d'organico all'interno della struttura carceraria. Prima di incontrare i giornalisti, Francesco Ciccone, in rappresentanza del sindacato autonomo della Polizia Penitenziaria regionale, insieme al segretario provinciale Saverio Ditto, ha accompagnato i consiglieri regionali Michele Mirabello del PD e Giuseppe Mangialavori di Forza Italia all'interno dell'istituto penitenziario. La delegazione ha visitato la struttura, toccando con mano la situazione cui sono costretti a vivere 400 detenuti e 150 agenti. E se il problema del sovraffollamento è al momento sotto controllo, drammatica è la situazione degli agenti. Abbiamo subito una riduzione di oltre 50 unità di Polizia Penitenziaria. È impensabile gestire un istituto di pena in queste condizioni, noi siamo qua per gridarlo, e se non ci sarà l'assegnazione di almeno 30 unità entro l'anno, poi apriremo uno stato di agitazione ad oltranza finché non risolveremo il problema. Un appello recepito dai due esponenti politici che si sono impegnati a presentare un'interrogazione parlamentare al fine di sbloccare una situazione che con l'estate rischia di degenerare. Io e il collega Mirabello ci metteremo da subito in movimento per cercare di dare delle risposte, alcune delle quali necessitano una risoluzione urgentissima. Sul fronte invece del problema idrico, domani stesso il consigliere Mirabello si recherà negli uffici della Sorical per tentare di risolvere il problema. Ci attiveremo fin da domani per verificare intanto qual è il punto che porta a questa restrizione dell'adduzione. Cristina Iannuzzi per l'AC News 24